sono giorni tristi questi per lo sport cittadino non solo ovviamente per la scomparsa di gian santi vogliamo ricordarlo anche magari per le nuove generazioni per chi non sa chi era sì mario era un grande sportivo un grande nostro amico proprio qua ultimamente avevamo festeggiato dei suoi 90 anni era come dire molto collegato allo sport locale essendo uno dei pochi che aveva giocato seppure da grande della mancini ma da giovane nel civita vecchia militando in serie c con grande profitto e poi allenato il civita vecchia allenato la civita erbo è stato collaboratore nella mancini un uomo che si è fatto tutta la trafila nel ruolo sia di giocatore che di tecnico quindi una grande competenza un grande uomo un grande civita vecchiese un altro pezzo della nostra città delle nostre tradizioni che ci abbandona qual è il ricordo che conserva insomma che conserverà di gian santi io ricordo che conservo è la sua la sua grandezza nel parlare di di calcio nel vedere le cose con grande semplicità nel vedere le cose sempre con ottimismo ultimamente il male l'aveva un po come come vuoi dire peggiorato in questo senso ma fino a qualche anno fa quando stava bene sperava sempre di vedere le squadre che vincevano sperava sempre di vedere un calcio molto poco parlato e molto di più giocato insomma uno sportivo vero